Laura Marchini di Bercella è presente al Created Networking Day e ha parlato della diffusione di materiali bio-based nei compositi. Di che cosa si tratta? Bercella è impegnata nelle attività di ricerca e sviluppo per il lancio sul mercato di un materiale di origine naturale nel mondo dei compositi che va a sostituire i materiali fenolici che sono con un certo grado di tossicità e il materiale da noi proposto è di origine naturale e soprattutto va a sfruttare gli scarti della produzione della canda da zucchero. Bercella è presente all'interno del network di aziende CRIT, quale valore aggiunto trova da questa rete di aziende? Per una piccola media impresa come Bercella, situata sul territorio dell'Emilia-Romagna, è fondamentale partecipare a questo tipo di attività perché ci permette di fare network e di incontrare, confrontarci con altre aziende simili alla nostra, spesso complementari, con cui poter sviluppare tecnologie insieme.